Ciao a tutti ragazzi, oggi farò un video in cui vi mostrerò le collane a giro collo e secondo me questo è un video molto utile perché le collane a giro collo, che adesso stanno andando tantissimo di moda, diciamo costano un pochino. Io sono riuscita a trovare collane a giro collo molto molto carine a poco su ebay e quindi ve le mostro con la spedizione gratuita. Allora, la prima collana che vi mostro è questa qua, che è appunto di perle, è rigida e questa qua l'ho vista moltissimo in giro e anche su altri siti come sempre, ad esempio semi dress, dress link, shinside e questa qui. Questa qua io l'ho pagata su ebay a 1 euro e 59, ovvero 2 dollari e 15, quindi è veramente pochissimo rispetto ai prezzi che si vedono in giro, queste collane, quando non costano tanto, costano 5 euro nei negozi, quindi 1 euro e 59. Poi, un'altra collana che vi voglio mostrare è questa qua, che secondo me è un po' più invernale, però è sempre carina, più che altro per il colore che è invernale, ed è questa qui, che ha questa grande rosa, ed è a Bordeaux. Questa qua io la vedo molto bene sopra alle gonne, a vita alta, quelle Bordeaux, che comunque si usano nel periodo invernale. Questa qua io l'ho pagata 1 euro e 95, ovvero 2 dollari e 64. Poi, vi mostro invece, quest'altro due collane, che l'ho comprata in entrambi i colori perché veramente sono bellissime, queste qua, che hanno appunto il colletto di Peter Pan appunto, e queste qua hanno tutte queste perle di diversa forma del colore verde acqua, e poi ha questa appunto la parte rigida oro, e questa qua io l'ho pagata 2 euro e 95, e quindi 3 dollari e 99, ed è questa qua, che secondo me è bellissima, sta molto bene su questo vestito di me la volevo mettere, però poi ho detto no, la devo mostrare, quindi non la metto. Ed è questa qui, poi se l'ho comprata uguale rosa, che è questa qui, sempre il collo di Peter Pan, diciamo, e ci sono delle diverse forme, e sempre della tonalità rosa, e ovviamente la parte rigida è oro. E questa qua l'ho pagata sempre 2 euro e 95. Poi vi mostro invece questa qui, che anche questa si vede molto in giro nei negozi, che è ridita o argento semplicissima, e questa qua l'ho pagata 1 euro e 98, ovvero 2 dollari e 68, che è questa qui. E questa qua c'è anche oro. Poi vi mostro l'ultima, che è questa qua, molto più piccola rispetto alle altre, che appunto la è oro, con dei triangolini nera, e questa qua l'ho pagata 1 euro e 09, ovvero 1 dollari e 48. Il video è finito, spero che vi sia stato utile, e vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video.